Ma veniamo al tema. Il tema è uomini che ti rovinano la vita se ti inamori. Ti ricordo però che sui canali ti puoi anche abbonare. Ad esempio sul canale Crescita Personale con Massimo Tramasco potrai partecipare ad apposite live domande e risposte dove io in persona darò risposte alle tue domande. E poi gli abbonamenti ci sono sul canale Massimo Tramasco, ci sono quattro livelli di abbonamento. Sul canale Felicità Benessere c'è l'abbonamento Seminario Online per partecipare ai miei fantastici Seminari Online. Insomma, vatti a abbonare, tastina abbonati e vicino ai tastini iscriviti. Ma veniamo al tema. Uomini che ti rovinano la vita se ti inamori. Togliteli dai maroni. Allora, il primo tipo è l'appicicoso. L'appicicoso è un uomo bisognoso, vittimista, che sì che ti ricoprerà di attenzioni. Quindi aggancia te, malgacciona, che sei bisognosa, ma poi, diciamo, tende ad essere pazzo di gelosia. Ti chiederà di rinunciare alla tua vita sociale, di vedere soltanto lui. Cercherà di farti vivere dei sensi di colpa. E questo è, come dire, il prezzo che paghi. Ed è un prezzo molto, molto alto. Ti sembrerà, dopo un po', che ti succhi il sangue. Poi l'altra tipologia è il mammone. Il mammone, diciamo, è un uomo che va alla ricerca della mamma, non di una compagna. Ha la mamma che sta al primo posto nella sua vita. Quindi per lui è molto importante, la mamma, è molto importante, diciamo, una donna che abbia, come dire, le parvenze di una mamma. Gli viene difficile fare le cose che fanno gli uomini adulti, come ad esempio andare a lavorare, fare un lavoro che sia un... Non è un uomo di qualità, insomma, è un catramista di solito. Prendere decisioni, essere coerenti, insomma. E quindi tu farai veramente un suo regato materno. Poi un altro uomo in cui devi stare attenta è, diciamo, l'invisibile. L'invisibile è un uomo che è sposato, oppure fidanzato, oppure impegnato, oppure esce con un'altra, oppure, diciamo... Però si presenta come scontento della sua relazione, che però non ha ancora chiuso definitivamente, dice. Ma deciso, diciamo, di tenerti, insomma. Talvolta l'invisibile è anche una variante, diciamo, è quello preso dalla carriera lavorativa o dai suoi obbi o da qualunque altra cosa. Quindi ha sempre un buon motivo per non prendere impegni, insomma. Quindi avrai un'altra... avrai scarsa possibilità di poter ottenere qualche cosa da questa persona. Quindi il problema è innamorarsi. Altra tipologia è il doppio giochista, che ha vita in parallelo. Talvolta può avere anche una doppia famiglia. O talvolta, comunque, tiene un lato nascuro, un lato oscuro, un lato nascosto. Talvolta ci possono essere dipendenze pericolose, insomma, dei segreti che quando li scopri è troppo tardi trovare altre situazioni. Un'altra categoria veramente molto, molto, diciamo, pericolosa è lo psicopatico, il folle. All'esterno può apparire normale, però dopo un po' capisci che ha grosse problematiche di natura psicologica. Talvolta ha anche comportamenti palesemente antisociali. Quindi persone pericolose. Se entri nella sua follia, se entri nel suo delirio, beh, difficilmente potrai riuscire a venire fuori da queste cose, insomma. Infatti poi c'è un'altra tipologia ancora peggiore che è il vizioso. Il vizioso è un uomo magari spesso benestante, però ha dei vizi che possono essere di diversa natura. Sesso, pornografia, droga, alcol. Insomma, gioco. È una tipologia che va ad alto rischio. Quindi stai molto attenta perché avere a che fare con le situazioni di questo genere è veramente, veramente pericoloso. E poi c'è un'altra tipologia veramente, veramente, diciamo, negativissima. Da toglierti dei coglioni è veramente più presto. E guai, innamorarti è il tipo violento, il tipo eroso. Che all'inizio può sembrare anche generoso, può sembrare anche tranquillo, però poi si trasformerà in Mr. Hyde, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Talvolta, appunto, la violenza potrebbe essere verbale, ma talvolta può essere anche emotiva, economica, talvolta anche fisica. Altra tipologia che devi veramente stare attenta e toglierti dei coglioni al più presto è il vampiro energetico. Il vampiro energetico, diciamo, è un succhiasangue, tra virgolette. Quindi, lamentoso, si lamenta sempre, non ha, non ha, diciamo, come possiamo dire, ti sta sempre addosso. Il suo obiettivo è quello di, come dire, avere un approvvigionamento energetico, insomma. E poi un'altra tipologia da cui stare attenta è il manipolatore. Il manipolatore sotto le sue varie forme, che può essere un narcisista, però potrebbe essere anche una persona cinica, una persona estremamente, come possiamo dire, iperlogica anche, che tende poi a mettere in atto comportamenti manipolativi per farti fare delle cose che di fatto vanno contro i tuoi interessi. Perché il manipolatore, un po' questa caratteristica, insomma, alla fine ti induce a fare delle cose che purtroppo, però, per te vanno contro i tuoi interessi. Quindi avrai difficoltà a, diciamo, avrai difficoltà a poter stare bene. Quindi è molto importante, diciamo, ottenere diversi, diciamo, risultati con te stessa, riconoscendo rapidamente queste categorie. Io ti ho dato alcuni cenni, però puoi veramente prendere atto del fatto che se incontri una persona che appartiene a questa tipologia, devi assolutamente togliertelo dai maroni, altrimenti farà di te, diciamo, polpette, distruggerà la tua vita, ti rovinerà completamente la vita. E diciamo che non ti meriti questo, insomma, ti meriti di vivere poi, come tutte le malgascione, e una vita felice. Quindi non andare a impelagarti in queste situazioni, perché veramente ti potrebbe distruggere. Devi ritrovare la tua autostima, devi ritrovare la tua forza interiore, questo è importante. E poi ce n'è un'altra cosa che è un po' un mix, diciamo, il tipo di uomo più pericoloso che è un mix di tutte le caratteristiche che ho citato, no? Non tutte, magari però ci può essere il vizioso, potrebbe essere anche il violento, potrebbe essere anche inafferrabile, l'appiccicose e i mammoni, diciamo, potrebbero essere anche spesso, diciamo, dei mix. Insomma, come dire, al peggio non c'è il limite. Quindi cerchi di evitare persone, ma anche evitare tutte le persone che hanno disturbi di personalità, disturbi dell'ansia, toglie dei coglioni, ma chi cazzo te lo fa fare? Oppure persone che hanno, che sono tristi, depresse, via, via dai maroni. Cerca di vivere la vita con gioia, liberandoti di zavori che ti impedirebbero di ottenere risultati per te importanti. Bene, ti ricordo di abbonarti al canale, iscriviti a tutti i miei canali, ma anche abbonati al canale Massimo Terramasco, dove troverai ben quattro livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione di seminario dal vivo, abbonamento master consulting e con in più una consulenza telefonica.